Sono Marco Novarese di Matrox Graphics, responsabile commerciale per il mercato italiano. Vi faccio vedere cosa presentiamo all'ISE di novità per quest'anno. Un sistema di distribuzione video su IP, su H.264, composto da un encoder H.264 e dei decoder H.264. Il prodotto funziona su infrastruttura IP standard, video ad alta qualità, quindi Full HD a 60 Hz. La cosa importante di questo prodotto è che c'è grossa flessibilità nella configurazione, quindi posso configurare la banda che vado a utilizzare per ottimizzare la gestione della mia infrastruttura di rete già esistente. Il prodotto ha alcune particolarità, cioè posso decidere di fare uno streaming live del contenuto, ma posso anche decidere di andare a registrare questo contenuto su un NAS o su un disco fisso, o comunque su un supporto di registrazione qualunque. La parte decoder ha anche la possibilità di avere dei contenuti salvati in locale per il face safe, quindi anche nel caso io perdo la connessione di rete, comunque ho un contenuto e non avrò monitor neri, quindi senza un contenuto che va in onda. All'ISE quest'anno presentiamo anche nuove funzionalità della nostra linea di schede per display wall, una linea che gestisce ingressi e uscite su un'unica scheda, siamo gli unici ad avere una scheda con ingressi e uscite su un unico prodotto, questo permette di gestire contenuti di qualunque formato e di poter creare dei layout di visualizzazione anche su video wall fino a 56 uscite al massimo. La particolarità è che quello che mostriamo qui all'ISE sono nuove effetti che possiamo gestire con gli input che abbiamo, quindi transizioni, effetti di trasparenza, rotazioni, e questo tutto in modo molto fluido e facile da gestire con diverse opzioni di software per poterlo gestire.